Seconda corsa, il turno dei gentlemen, salchi ai cavalli di proprietà, corsa a reclamare, sono in otto al via, con il numero uno Shark Attack, Pierluca Cecconi, due Bigiarella Rec, Leonardo Vastano, tre Lunide Greppi, Nicola Del Rosso, quattro Comandante V, Otello Zorzetto, cinque Charlize Ranmun, Maurizio Mioli, sei Chanel DVS Carlo Bonfiglioli, sette Attila Guido Mezzetti, otto Zolabad Giuliano Selva. La macchina prende velocità, si prepara al lancio, si parte con veloce Cluni dei Greppi, che prende l'iniziativa, favorita che va subito al comando, nei confronti di Bigiarella Rec, terza posizione per Comandante V, che si sistema avanti a Shark Attack, a largo rimane Charlize Ranmun, poi ancora Attila, breve incertezza per Chanel DVS, quattordici e sette per il lancio della favorita, Cluni dei Greppi, che può amministrare ora le operazioni a proprio piacimento, se ne vanno quattrocento metri comunque di buona lena in trenta e due. Cluni dei Greppi, facile al comando, ora gestisce a metà della piegata di sinistra e porta a spasso la compagnia, a 600 metri, passati in 46. Passaggio davanti alle tribune, Cluni dei Greppi al comando, la figlia di Exploacaf continua, salda leader, Bigiarella Rec nella sua scia, Comandante V è terza in corda, avanti a Shark Attack, poi Attila, a largo Charlize Ranmun, quindi ancora Zola, Badde, Chanel DVS. 31.3 la seconda frazione, se ne va in 1.5 la metà gara, con Cluni dei Greppi che porta a casa ora il primo chilometro in 1.17.3. Cluni in vantaggio, Bigiarella nella sua scia, poi Comandante V, quindi Shark Attack a metà della piegata opposta alle tribune, non sposta nessuno e così Cluni dei Greppi può continuare ad andare del suo passo, 1.32.5 per i 1.200 di gara, sposta ora con decisione Bigiarella Rec che va all'attacco di Cluni dei Greppi, Leonardo Vastano prova ad andare di scatto sulla rivale che però allunga e guadagna vantaggio, ci riprova di dentro ora Bigiarella Rec nel finale Cluni dei Greppi, si allunga a vincere facile, Bigiarella Rec è seconda, Comandante V, terza avanti a Shark Attack, Attila, come sono partiti? Sono arrivati 1.15.4 raguaglio cronometrico, 28.8 la chiusa, facile assunto di Cluni dei Greppi, Nicola Del Rosso in Salchi e alla proprietà della figlia di Exploacaf decisamente declassata a reclamare, vince come vuole, facile Cluni dei Greppi e Nicola Del Rosso assegno nella seconda corsa dall'arcoveggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.